Una grande mostra, quella di Miró, arriva a Padova grazie a un'intuizione di Federico Obama. Cosa è successo? Volevamo a Palazzo Zavarella Miró da qualche anno, però volevamo una cosa per Padova assolutamente speciale. Scopriamo che in Portogallo c'è una collezione importantissima, 85 opere di Miró. Mai viste prima chiuse per 40 anni nei forzieri di una banca, finalmente riesumate. Nasce la magia, nasce il rapporto, le chiediamo per portarle finalmente fuori dai confini in Europa, dove? A Padova, a Palazzo Zavarella. Qui si potranno vedere queste 85 opere uniche, specialissime. che vanno dalle opere di pittura, alla materia, agli arazzi, ai collage. Ecco, è un mondo. È un mondo da scoprire a Padova fino al? A Padova fino al 22 di luglio. Da Miró un grande buongiorno mattino. Buongiorno mattino.